Una app gratuita per segnalare perdite sulla rete idrica, ricevere informazioni sulla qualità dell'acqua e pagare le bollette online. L'iniziativa è della società Gori. Ce ne parla Claudio Della Rocca. Presentati a Villa Campolieto di Ercolano dalla Gori, la società maggioranza pubblica che gestisce il servizio idrico nell'ambito territoriale ottimale sarnese-vesuviano, un'app e un sito, Gori a portata di mano, destinati a rendere più semplici e veloci i contatti con l'utenza. Un utente registrato allo sportello online di Gori può accedere inserendo le proprie credenziali. La segnalazione guasti è una delle funzioni più innovative. Si può segnalare un guasto su utenza o un guasto su rete. L'app utilizza la posizione GPS del punto in cui è l'utente, quindi già capisce di essere a via Doglie 28 Ercolano. Basta indicare la tipologia di guasto, una perdita idrica che l'utente ha visto per strada. Può scattare una foto per dare a Gori un elemento in più per intervenire più prontamente. Ingegnere, abbiamo visto per gli utenti che cosa significano queste innovazioni, ma per la Gori che significa? Per la Gori significa riuscire a dare informazione, entrare in contatto con i propri utenti in maniera più capillare possibile. Noi riteniamo che il cittadino debba in tempo reale farci conoscere la disposizione, usiamo questa espressione, e noi in tempo reale abbiamo il dovere di dare una risposta. Nell'immediatezza, non nella chiacchierologia, si affronta la scommessa sul futuro.